Isabel, dimmi una cosa, secondo te l'omicidio può essere... È morta! È morta! Davvero? Ha funzionato? Non poteva non funzionare! Ha avuto dei mezzi scarti anche per molto meno! Devo dire che però mi hai colpito maledettamente più forte che al motel! Ma è un supplemento di adrenalina dovuto andare in cittadino! Oh!